Siamo nell'ambito della festa di Sant'Antonio organizzata dai frati minori conventuali della basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli, zona Carmagnola e la rievocazione storica dell'ingresso dell'armata della Santa Fede, quindi San Fedisti, nella capitale il 13 giugno del 1799. C'è un corteio straordinario in quel periodo, oggi ci troviamo all'interno della basilica come dicevamo di San Lorenzo Maggiore nell'ambito della cappella di Sant'Antonio. Il professore Goli sta facendo una rievocazione storica, una narrazione di quelli che furono i fatti del tempo. Si è appena conclusa questa serata rievocativa dove si è parlato di storie, si è parlato del processo dell'ingresso dei San Fedisti. Come avrete potuto notare alle spalle del professore Vincenzo Goli accanto alla bandiera Borbonica c'era la bandiera della Federazione Russa che è sempre stato uno Stato molto vicino al Regno delle Due Sicilie. All'evento ha partecipato anche il console della Federazione Russa. a livello della Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Anglisano.